Per identificare il nostro cliente ideale dobbiamo fare un bell'esercizio di immaginazione, un esercizio in realtà che scopriremo essere piacevole perché andiamo proprio a entrare nelle pieghe di una persona a cui man mano aggiungendo dettagli ci sembrerà veramente di conoscere, anche se nella realtà non l'abbiamo mai incontrato. Anche in questo caso per parlare di target, quindi la nostra clientela, ci viene incontro uno strumento di design thinking. Di nuovo è una rappresentazione grafica di blocchi concettuali che andremo a indagare e comporre per tirare fuori la radiografia di questo nostro cliente ideale. Anche in questo caso è assolutamente scaricabile e trovabile su internet la mappa dell'empatia e è utile compilarla magari in più persone che si stanno occupando della stesura del progetto in modo tale che le idee di tutti quanti possono concorrere a completare l'identikit di questo nostro cliente ideale. Si parte dal centro di questo disegno volutamente stilizzato quasi infantile e quindi si parte dal centro per capire anagraficamente chi è questo nostro cliente ideale quindi attribuirgli un'età, un genere, uno status e un luogo di residenza perché può darsi che rispetto al business che abbiamo in mente il fatto che risieda in un posto anziché in un altro possa essere di rilevanza. Tutte le domande, tutte le idee che butterò qua e là in questa descrizione della mappa dell'empatia sembrano delle cose banali. In realtà è l'insieme della banalità dei punti come le mollichine nella favola di Pollicino che ci portano a completare questo identikit ideale. Più dettagliamo più poi possiamo togliere, sfrondare e lasciare il vero nucleo di chi è questa persona. Quindi siamo partiti dalla cosa più semplice, il centro, la parte anagrafica. Procediamo poi e andiamo a vedere il punto numero due e dove andiamo a capire che cosa vede il nostro cliente ideale. Il che cosa vede è una domanda figurata perché qui vogliamo capire quali sono i valori che lo animano è responsabile solo di se stesso, è responsabile anche di una comunità o ad esempio di un nucleo familiare. Quindi cos'è che ci serve sapere? Se prende delle decisioni solo per se stesso o anche per gli altri perché questo probabilmente sposta il momento in cui prende delle decisioni di consumo, sposta la sua capacità di scegliere per una cosa piuttosto che per l'altra. Ci interessa sapere che mestiere fa, da quanto tempo è nel mondo del lavoro, come si relaziona in realtà rispetto a se è soddisfatto di questo suo mondo del lavoro perché ad esempio un'insoddisfazione sul mondo del lavoro potrebbe portarlo a cercare al di fuori del mondo del lavoro la soddisfazione di un bisogno che noi con la nostra attività imprenditoriale andiamo esattamente a colmare o anche da quanto tempo è che lavora perché chiaramente chi è appena entrato nel mondo del lavoro ha delle esigenze, dei bisogni che sono diversi da quelli di una persona che magari è a fine carriera, a prescindere dal lavoro di alto-basso profilo che si faccia. Passiamo al blocco numero 3. Che cosa ascolta il nostro cliente ideale? Qui vogliamo capire di chi è che si fida il nostro cliente, dov'è che va a informarsi, chi è che ritiene una fonte autorevole, quali sono i suoi canali di informazione, che cos'è che porta a completare la sua idea di vita e a che cos'è che lo sposta nelle sue opinioni e quindi anche come si orienta o come si fa a orientare per le scelte del tempo libero, la cultura, la salute, la gestione dei risparmi, quando compie qualche azione, che tipo di feedback si aspetta e per azione, non so, per esempio, quando acquista qualche cosa online, che tipo di feedback si aspetta, che l'acquisto arrivi rapidamente, che l'acquisto sia uno dei top, dei 5 top modelli disponibili sul pianeta e via dicendo. Queste domande incalzanti aiutano a capire da che cosa si fa influenzare questo cliente ideale e come prende, quali sono i meccanismi decisionali che adotta. Il blocco numero 4, che cosa pensa, che cosa prova il nostro cliente ideale? Qui ci spostiamo da un'analisi su un periodo corto a una proiezione su un medio-lungo periodo, ovvero, come ragiona oggi il nostro cliente ideale nel prendere le sue decisioni per mettersi in sicurezza e per soddisfare i suoi bisogni sul lungo periodo? Che cos'è che preoccupa il nostro cliente ideale? Che cos'è che potrebbe, ad esempio, nella nostra attività, sollevarlo da queste preoccupazioni. Questo proprio in un'ottica di previsione, quindi non tanto comprare una focaccia oggi, ma, ad esempio, comprare una focaccia senza glutine per curare la propria salute affinché fra 10 anni non insorgano dei problemi di intolleranza e via dicendo. Il nostro cliente ideale si pone oggi delle preoccupazioni che noi con la nostra proposta di valore andiamo a soddisfare in modo tale che si possa mettere in sicurezza da oggi a un periodo più lungo, quindi non la soddisfazione immediata di un bisogno, non solo la soddisfazione immediata di un bisogno. E ancora, nel blocco numero 6, quali sono le difficoltà che prova e dove noi, e qui sta proprio l'andare a ricercare, a rapporre le domande giuste ci porta a capire come la nostra proposta di valore possa anticipare le paure, i bisogni, i dubbi e insieme ai bisogni, non solo ai bisogni materiali, ma anche ai propri bisogni di rassicurazione che il nostro cliente ideale potrebbe provare. Quindi, e in questo si intersecano anche i valori, cioè quali sono i valori, i motivi per cui il nostro cliente ideale si sente bene, si sente in sicurezza, come oggi, così nel futuro? Ecco, noi dobbiamo capire cos'è la difficoltà che prova. Se abbiamo compilato bene i sei punti precedenti, così come abbiamo fatto per il Business Model Canvas, arriviamo al punto finale che è un po' il tirare le fila appunto del percorso compiuto. Il punto numero sette della mappa dell'empatia è il punto in cui andiamo a capire su che cosa il nostro cliente ideale è disposto a investire per poter guadagnare una qualità di vita che è quella che si aspetta di avere, che è quella a cui vuol tendere nella proiezione appunto degli anni e quella in cui è soddisfatto delle proprie scelte e in quelle scelte rientriamo anche noi e la nostra idea imprenditoriale perché contribuiamo a rendere la sua vita migliore. Essere appagati, condurre la vita che si è scelti con determinazione è un indice di stabilità e anche in scenari instabili come potrebbero essere quelli della pandemia è assolutamente un fattore su cui puntare nel momento in cui andiamo a fare la nostra proposta di valore perché rassicurare, sostenere, anticipare i bisogni è una chiave di lettura a Business che porta sicuramente a non solo ad attirare i nostri clienti ma a tenerli legati a noi in quelle relazioni che vedevamo prima nel Business Model Canvas e che costruiscono l'equilibrio poi che si traducono poi nell'equilibrio di costi e ricavi che abbiamo visto nella puntata precedente.